Ma cosa potevamo fare? Potevamo vederlo senza darlo via subito? Perché io l'ho guardato quando l'ho accogliata? Ma no, dovevi far finta di niente, guardare, concentrarti su un altro, anzi dovevi dire, guarda, dovevi dire, voglio cuore io, si pensa, voglio cuore, andavo lì, c'era un po', avevo prendo cuore.